Ieri durante la seduta convocata in sezione urgente sono stati approvati lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale e la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra tre mestiere Etneo e Fiume Freddo di Sicilia, recedendo dalla precedente convenzione stipulata con il comune di Piedimonte Etneo.